Primo circuito della stagione, sporco e frenate sono i fattori di maggior stress per i pneumatici. Asfalto stradale caratterizzato da traiettorie che tendono a sporcarsi facilmente, condizione che rende critico il grip delle coperture in fase di sterzata e accelerazione. Curva 2 staccata da 4,87 G con taglio di velocità di 200 km orari in soli 108 metri, condizione che richiede il massimo livello di aderenza longitudinale ai pneumatici. Nella parte alta del tracciato la S-White si affronta in quinta marcia a 220 all'ora. La velocità sale a 233 nella seconda parte, dove l'elevata saturazione laterale genera un'accelerazione di 4,52 G che impegna al massimo spalle e battistrada. Temperature estive e tracciato severo, medium e soft sono le mescole che coprono meglio queste condizioni, assicurando prestazioni e sicurezza.